Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Mi fermo al superfluo o cerco di fidarmi e donarmi del tutto? Ecco una bella domanda con la quale entrare nel Vangelo di questa domenica e ci propone tre categorie di personaggi, due contrapposte. Anzitutto abbiamo il rimprovero che Gesù muove agli scribi, i sapienti, i dottori della legge del tempo che amano passeggiare lunghe vesti, ricevere saluti, avere primi posti e pregano per farsi vedere mentre divorano le case delle vedove. Il Signore mette in guardia da un atteggiamento tipico di quelle persone che usano persino Dio come sgabello del proprio io, che sfruttano la religione per fini egoistici. Si tratta di qualcuno che vive per sé, come se fosse un pozzo senza fondo, un insoddisfatto esistenziale che cerca di colmare i propri vuoti riempiendosi con la notorietà, l'essere conosciuto, l'arricchirsi, il dare sfogo alle proprie pulsioni in modo egocentrico. Insomma, un infantile che usa tutto e tutti a proprio vantaggio. Costui, dice Gesù, si prepara in realtà a una condanna ancora più severa. Capiamo bene che qui è il rischio che tutti corriamo di rimanere incastrati in un narcisismo micidiale che ci porta a voler essere l'ombelico del mondo. Dunque, a non aver ancora aperto veramente e seriamente le porte del cuore al Dio dell'amore, il solo che è capace di farci scoprire, sentire profondamente amati e liberarci da quell'opprimente ricerca egoistica di sé. Dall'altra parte abbiamo invece contrapposto l'atteggiamento di una povera vedova. Spostiamoci nel Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era una struttura meravigliosa, imponente, considerata dai giudei il luogo della presenza di Dio sulla terra. Vi era un ampio cortile, varie aree destinate a vari gruppi di persone. Una di queste era destinata alle donne. Vi erano anche delle cassette, almeno tre, a forma di trombetta capovolta, in cui i fedeli depositavano le loro offerte. Una per il culto, una per il sostentamento dei sacerdoti, una per i poveri. Gesù è lì, che osserva come gettavano le offerte. Attenti al come. Gesù vede che i ricchi mettevano molto denaro. La povera vedova mette pochissimo rispetto a loro, due monetine che fanno un soldo, cioè un quadrante romano, che era la più piccola moneta del tempo, con la quale si potevano comprare 100 grammi di pane. Non ci viene detto altro. Volendo marcare un po' la scena, possiamo pensare al diverso stile tra i ricchi e questa povera vedova. Quelli potevano passare facilmente per grandi benefattori, in forza del tintinni o delle molte monete versate, a differenza della povera vedova. Sembra quasi di vederla, nascosta, discreta, mettere rapidamente quegli spicciolini nella cassetta. Noi cosa avremmo pensato? Ci saremmo forse fatti prendere dal quanto. Gesù va oltre e ci offre una preziosa chiave di lettura. I ricchi hanno dato parte del superfluo. Lei, nella sua miseria, ha dato tutto quello che aveva, tutto ciò che aveva per vivere. È bello perché in greco l'ultima frase è holon ton bio nautes, che potremmo tradurre con tutta la sua vita. Ha dato tutto quello che aveva, ha gettato tutta la sua vita. Capite? C'è una radicale opposizione tra parte del superfluo e tutto ciò che aveva. Qual è il punto? Questa donna mette lì tutto. Lei era una povera, avrebbe avuto diritto ad avere ciò che veniva messo nelle cassette e invece lei pensa a donare. Aveva due monetine, ne avrebbe potuta tenere una e invece lei le mette tutte nella cassettina. Mette tutto, tutta se stessa. Qual è la grandezza di questa donna? È proprio in questo tutto. Lei mette tutto in Dio, getta tutta la sua vita in Dio, libera da preoccupazioni fidandosi completamente di Lui. Questa donna rappresenta lo stile di Cristo che si dona tutto al Padre e si consegna fino in fondo per ciascuno di noi e proprio per questo ci salva. Chi è il Signore? Qualcuno che si dona fino alla fine, qualcuno che versa fino all'ultima goccia di sangue per me, per te, per ciascuno di noi. Noi davanti all'esempio di questa donna siamo fortemente interpellati e ci aiuta a chiederci nel rapporto con Dio, nel rapporto con gli altri, sono fermo al superfluo o mi sto mettendo in gioco seriamente? Questa donna si gioca tutto nel rapporto con Dio, si fida veramente profondamente del Signore. Noi invece possiamo rimanere fermi al superfluo, ad esempio dare a Dio degli scampoli del nostro tempo, giusto la preghierina per sentirci a posto con la coscienza, il segno di croce versione scacciamosche tanto per aver fatto il mio compitino o adempiere il minimo sindacabile per sentirmi a posto. Così può essere anche nella fiducia quotidiana, mi fido sì ma non troppo, quindi appena qualcosa non è secondo i miei schemi, i miei pensieri, subito sono pronto a borbottare. Insomma rimanere in superficie, non gustare la bellezza di un rapporto pieno con il Signore. Questa donna invece si gioca tutto, entra nel necessario, mette in gioco la sua vita, il suo domani, lo affida completamente al Signore. Così è per noi, se vogliamo crescere come cristiani, far vera esperienza di Dio, dobbiamo imparare a fidarci quotidianamente e sul serio di Lui. Piccoli concreti atti di obbedienza a Lui e alla Sua parola che ci portano a gustare profondamente Lui e la Sua opera in noi. Vengono in mente i santi, facciamo un esempio concreto, chiara luce. Una ragazza che coltiva il suo rapporto con Gesù e coltivava una frase molto bella in lei, Gesù quello che vuoi tu lo voglio io. Arriva il giorno in cui giovanissima avverte una fitta forte alla spalla e di lì a breve scopre di avere un tumore. Avrà bisogno del suo tempo, della sua mezz'ora di solitudine, di lotta interiore nella preghiera dove sgorga il suo sì, il suo sia fatta la tua volontà. Eppur nel dolore, nella fatica di una malattia lacerante come il tumore, era fonte di vita, di gioia per tante persone che l'andavano a trovare. Ecco, non fermarsi al superfluo, ma mettere in gioco il necessario, l'essenziale, la propria vita nelle sue mani. Ma questo stile superfluo o tutto riguarda anche le relazioni fraterne. Ad esempio, se due giovani sentono nel cuore la chiamata al matrimonio, non possono pensare di costruire una vera famiglia e di poter vivere un rapporto vero pieno adulto semplicemente fermandosi al superfluo, entrando in una relazione dove l'altro è semplicemente un'aggiunta al proprio mondo, cioè io ho i miei schemi, i miei passatempi, i miei hobby, tutte le mie cose, tutto deve rimanere invariato, in più ci sei tu. E magari destino all'altro, giusto gli scampoli del mio tempo, qualche attenzione ogni tanto, ma poi ho il mio mondo. Finirebbero per celebrare non il matrimonio ma un funerale. Così è anche il nostro aspetto caritativo. Io posso fermarmi a dare parte del superfluo per sentirmi a posto o lasciarmi toccare nel necessario. Questo può riguardare ad esempio il tempo che io dedico alla comunità, agli altri, ai bisognosi. Può riguardare i miei beni. Vi faccio un esempio semplice, giusto per capire. Può capitare a volte davanti alle chiese o nei cassoni dei vestiti della Caritas che d'estate, ad esempio, vengano messi dei bei sacconi neri con dei vestiti invernali, talmente logori e malandati che non si possono usare neanche come stracci per il pavimento. Al che la domanda sorge spontanea, ma perché non li hanno buttati e li hanno messi qui? Ecco, una volta si limita a dare parte del superfluo, forse per così sentirsi un po' buono, che ha tutto sommato fatto una buona azione, ma in realtà non era quello il fine. Ecco, un esempio molto banale e semplice, però per dirvi, lo stile del dare parte del superfluo può toccare tanti e per carità già è qualcosa, ma questa povera vedova ci insegna qualcosa di più profondo, anzitutto nel proprio rapporto con Dio. Un po' come quel padre di cui ha parlato Papa Francesco, che aveva una figlia gravemente ammalata. I medici l'avevano data per spacciata. Lui lasciò la moglie e la figlia in ospedale, partì con il treno la notte e andò davanti ad un santuario a più di due ore di strada. Rimase lì, aggrappato al cancello, tutta la notte, e disse signore, la metto nelle tue mani, ora te la devi vedere tu, mi fido di te. Rimase lì tutta la notte a pregare. Il giorno dopo, tornò in ospedale e la notizia meravigliosa, la figlia era guarita. Che questa povera vedova ci insegna a gettare tutto nelle mani di Dio, a fidarci sul serio. Tante volte, proprio quando la vita diventa seria e ci pone davanti a cose difficili, inizia e può inverarsi una vera esperienza di fede, dove Gesù diventa veramente il signore della nostra vita e smettiamo di fermarci al superfluo. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!